Direttamente da Stettino, vittoria per 3-0 dell'Imoque in Champions, intervistiamo Monica De Gennaro. Com'è andata questa partita? Bene, sicuramente in crescendo, abbiamo preso le misure dopo il primo set, sono loro gli attaccanti principali, loro giocavano questa palla veramente veloce e penso che dopo il primo ci siamo espressi al meglio, abbiamo murato e difeso meglio e si è vista la differenza. Quindi un pronto riscatto dopo il mondiale per club, una bella vittoria per prepararci le feste natalizie, facciamo tanti auguri ai tifosi del Moco, credo che sia la cosa migliore. Una bella vittoria e tanti auguri, buone feste, che sia un Natale sereno a voi e alle vostre famiglie. Grazie Mocchi!